Con Cristiano Geretta, seconda trasferta del campionato di Serie A qui a Roma, continuiamo questa fila di trasferte sicuramente importante perché dopo l'Iventus Stadium arriva l'Olimpico, tempo in mutamento, speriamo che non venga a piovere, però soprattutto speriamo di vedere la stessa Udinese grintosa con le prestazioni che hanno contraddistinto l'ultimo periodo. Direi di sì, l'obiettivo è questo, il mister ha molto battuto sulla prestazione perché comunque al di là della sconfitta è meritata che è venuta fuori contro il Palermo in casa, comunque la prestazione rimane, abbiamo prodotto 10 calcio d'angolo a favore, almeno una ventina di tiri verso la porta, 5 occasioni clamorose, però abbiamo sbagliato e quindi dobbiamo renderci conto che se non la butti dentro puoi rischiare anche di perdere, però ecco ha confortato molto la prestazione e su questo dobbiamo continuare sicuramente questa sera perché per uscire con qualcosa da questo stadio bisogna mettere in campo una prestazione importante e molto accorta. Sicuramente da questo punto di vista avrà fatto piacere alla squadra anche ricevere il supporto del pubblico nonostante la sconfitta nell'ultima gara, da quest'altra parte invece il pubblico sembra essere un pochettino agitato perché la Lazio non ha cominciato bene il suo campionato, il mister l'ha definita un cane arrabbiato, lei come definisce questa Lazio? Sì, è una frase adatta nel senso che mi aspetto comunque una squadra avvelenata per quello che sta succedendo in questo periodo, però noi dobbiamo essere doppiamente avvelenati perché comunque dobbiamo andare a riprenderci quei punti che abbiamo lasciato in casa domenica scorsa contro il Palermo dove parlando di pubblico c'è molto dispiaciuto, anche ragazzi molto dispiaciuti, soprattutto per la gente perché è stata la prima volta nel nuovo stadio, un impatto incredibilmente bello, fantastico, coinvolgente uno stadio che non ti aspetti a Udine così caldo, per cui è spiaciuto molto anche e soprattutto per loro e allora abbiamo bisogno comunque al di là della Lazio che è sicuramente una squadra arrabbiata però noi dobbiamo esserlo altrettanto se non di più per strappare qualcosa qui a Roma che è un campo molto difficile dovremmo essere bravi a tenere botte secondo me nella parte iniziale della gara perché loro sicuramente partiranno forte, però se dovessero incontrare dei problemi comunque noi dovessimo crearli, allora anche l'ambiente può diventare ostile nei loro confronti un vantaggio per noi, insomma, è una gara tutta da giocare ma vedo e sento la squadra comunque carica il mister come sempre l'ha preparata in maniera molto pignola, quindi sono molto confortato dal lavoro E sicuramente sarà confortato anche da quello che è stato l'inizio di questo weekend perché anche ieri abbiamo avuto una grande soddisfazione con la nostra primavera i ragazzi di mister Luca Mattiussi che ancora una volta in quel di Milano hanno portato a casa il bottino pieno Sì, è il terzo anno di fila che la primavera è Corsara a Milano quindi sicuramente cominciano ad odiarci all'interno proprio ma bella prestazione, in realtà un diretto Sport Italia ieri alle ore 13 è stata una bellissima vetrina per i ragazzi, hanno giocato una partita molto bella a viso aperto, una squadra compatta nel momento della fase difensiva ma molto pericolosi quando avanzavamo e una bella prestazione davvero confortante era la prima di campionato, abbiamo rotto il ghiaccio in maniera importante quindi complimenti davvero al mister, allo staff e alla squadra la strada è questa, è molto lunga perché solamente la prima partita però la strada è quella Una strada che sicuramente l'Udinese sta percorrendo bene perché all'inizio di stagione è stato importante per entrambe le formazioni c'è la volontà soprattutto di far crescere questi giovani anche in virtù di quel regolamento su cui continuiamo a battere ma è importante far crescere soprattutto anche i nostri ragazzi friulani Indubbiamente sì, questo è un progetto che abbiamo cominciato comunque un anno e mezzo fa con l'Academy quindi cercando di infoltire un po' quello che è lo scout nella nostra regione e la nuova normativa UEFA ci impone questo soprattutto insomma io credo che possiamo essere abbastanza positivi perché vedo che sotto anche oltre la primavera ci sono comunque giocatori molto interessanti quindi nei prossimi anni da quel punto di vista non dovremo avere grossi problemi Grazie